Siamo in una fase di mercato che di certo non è facile perché l'azionario arriva da lungo periodo di crescita, l'obbligazionario è di fronte a prospettiva di rialzo dei tassi, come muoversi in questo contesto? Sicuramente i mercati azionari vengono da tre mesi importanti, i primi tre mesi di quest'anno, quindi sembra che stiano andando a cercare spunti per un ulteriore rialzo, altrimenti vedremo una fase di consolidamento, leggera discesa come sta succedendo in questi giorni. Quali spunti cercare? Sicuramente i fattori geopolitici stanno pesando non poco sui corsi di borsa nel corso delle ultime settimane, dall'altra parte si vanno a guardare i fondamentali, quindi un'ulteriore conferma di buoni dati fondamentali, di una poderosa ripresa economica possono spingere ancora all'insù i listi nazionari. Per quanto riguarda le obbligazioni abbiamo visto invece recentemente un recupero dei corsi, quindi una discesa di rendimenti anche soprattutto sulla parte lunga della curva, questo forse vuol dire che noi investitori non siamo così convinti di una ripresa importante dell'inflazione e dall'altra parte in alcune parti del mondo forse la crescita del PIL non sarà così sostenuta come invece si aspettano la maggior parte degli analisti. Alla luce di queste considerazioni come vi state muovendo? State lanciando nuovi prodotti? Abbiamo ultimamente attivato dei nuovi fondi anche per l'investitore individuale italiano, pensiamo che in questo contesto di forte dislocazione e di inefficienza a livello globale prodotti che vanno a investire in giro per il mondo, quindi senza alcun confine geografico settoriale siano gli strumenti migliori, quindi prodotti a ritorno assoluto globali ma anche nell'ambito obbligazionario siamo favorevoli e quindi abbiamo lanciato ultimamente dei fondi nell'ambito degli high yield a breve durata, quindi strumenti finanziari che vanno a beneficiare della ripresa economica senza che ci sia un rischio di tasso, di duration all'interno del portafoglio.